Assessore Vito, è appena concluso l'incontro con i sindaci e con Terna per l'elettrodotto. Da parte della regione c'è stato un grosso passo avanti perché è stata introdotta nella convenzione proprio una clausola a favore dei comuni. Sì, diciamo che l'incontro oggi con i comuni segue un percorso che l'amministrazione regionale ha avviato di ascolto chiaramente dei primi cittadini, delle comunità interessate al passaggio dell'elettrodotto al fine di favorire il più possibile quella che è l'interlocuzione dell'azienda con i comuni nell'esclusivo e unico interesse delle amministrazioni comunali stesse. Il lavoro che abbiamo fatto è stato quindi quello di ascoltare le richieste che arrivavano del territorio che erano precise e puntuali nell'ambito dell'argomento delle compensazioni ambientali cioè delle opere che verranno realizzate a seguito delle risorse che Terna metterà a disposizione proprio per la realizzazione dell'elettrodotto a compensazione del disagio che chiaramente si realizza. Con un impegno importante siamo riusciti a ottenere anche una disponibilità a che la regione abbia una sorta di ruolo attivo quindi abbiamo introdotto un specifico articolo nella nuova convenzione quadro che riguarda impegni alla regione a Terna al fine di specificatamente permettere alla regione di realizzare le opere che le amministrazioni comunali riterranno importanti e che interessano in particolare i territori dei comuni ricorrenti. Questo appunto è il fine comunque di permettere la realizzazione delle opere e di non perdere quindi delle risorse significative che altrimenti rimarrebbero nelle casse di Terna. È chiaro che questa è comunque un'ipotesi assolutamente residuale perché le amministrazioni comunali possono liberamente decidere qual è la strada da percorrere se comunque non fare nessun tipo di ragionamento su queste risorse oppure di sottoscrivere la convenzione con Terna. Quindi l'ulteriore ipotesi come ho spiegato per i comuni appunto ricorrenti è eventualmente quella di seguire il dialogo esclusivamente con la regione. Assessore come tempi adesso la convenzione sarà inviata ai comuni e poi Terna ha parlato della realizzazione dell'opera entro l'anno? Diciamo che è importante questo passaggio perché dal momento in cui la regione notifica ai comuni la convenzione già sottoscritta allora automaticamente decorono questi tempi. Quindi anche queste riunioni propedeutiche all'invio di questa convenzione sono state fatte proprio per cercare di venire incontro ai comuni in modo che abbiano tutte le informazioni più corrette e che possano con serenità e con il massimo della coniezione di causa possano prendere la decisione che riterranno più utile. Quindi questo era un impegno che ci eravamo presi e su questa strada ci siamo mossi. Sindaco Martines di Palmanova che rappresenta un comune ricorrente. La regione quindi ha come dire vi ha teso la mano con questa proposta di sottoscrivere questa convenzione dove la regione assume un ruolo guida per quel che riguarda le opere di compensazione. Io ringrazio la regione per questa scelta che sicuramente ci permette di conservare le risorse perché da quanto è saputo oggi da terra non lo dicono che non pagherebbero ai comuni ricorrenti quindi il rischio era di perdere le risorse. I miei dubbi nascono dalla tempistica e dalla possibilità che la regione ha di mettere in piedi poi i progetti che i sette comuni ricorrenti andranno a proporre. Le tempistiche da terna sono tempistiche minime, 18 mesi, non si riesce a fare alcuna piccola opera pubblica quindi io penso che bisognerà andare a rivedere i termini e poi ragionare con la regione su quelle che sono le modalità di utilizzo di quelle risorse. Grazie.